Per attivare manualmente un relais in Ipassan Manager, fare clic sul pulsante di monitoraggio, quindi sull'opzione Comandi manuali in alto. A questo punto fare clic sul simbolo più accanto alla dicitura uscite, quindi fare semplicemente clic sul pulsante Accendi o accendi permanentemente accanto al relais che si desidera attivare, a seconda della durata dell'attivazione del relais. Grazie